Amici e amici di Super J, buongiorno, ben ritrovati a di prima mattina la nostra rassegna stampa lunedì 31 luglio 2023, siamo pronti come sempre a darvi il buon inizio di settimana, andremo a leggere i principali argomenti sui quotidiani nazionali e ovviamente della regione Abruzzo. Coordinati da Maurizio Valeriani per quanto riguarda la regia, cominciamo con l'andare a vedere la prima pagina dell'edizione odierna del principale quotidiano abruzzese, ovvero il quotidiano Il Centro, partendo da Teramo con delle scintille a livello politico, l'opposizione a Teramo che dichiara rinviate il consiglio, proprio ieri mattina è stato inviato un comunicato stampa dall'opposizione guidata da Carlo Antonetti con la sottoscrizione di tutti gli altri consiglieri denunciate irregolarità, ma il sindaco d'Alberto tira dritto e commenta, oggi si va in aula, appunto oggi pomeriggio si dovrebbe svolgere il consiglio comunale. Taglio alto, Abruzzo, la qualità dell'acqua, goletta verde, i test sul mare sono buoni, due punti inquinati. Trovate anche una guida casa, gli sconti sui lavori, arriva il nuovo ecobonus. Per quanto riguarda invece la fotografia principale nel taglio medio della prima pagina del quotidiano Il Centro, l'estate in Abruzzo, gli eventi e i VIP, l'abbraccio di Sulmona a Ornella Muti che dichiara tornerò anche per gustare i famosi confetti appunto di Sulmona. Il giallo poi di Nicola Basilico sparito a vasto da 18 giorni via alle ricerche anche con i cani. La denuncia poi a Pineto picchia e spaventa la compagna con colpi di pistola. Questa sera alle 21.15 parliamo di eventi al Pescara Jazz, grande finale con il rock dei Cedrotal, grandissima band appunto nata alla fine degli anni 60. Roseto premiati i giovani artisti che lavorano la ceramica, la cerimonia appunto che è avvenuta a Villa Paris. I controlli dei carabinieri, Silvi presa ladra seriale in trasferta, sorpresa nell'auto con Arnesi da scasso, era ricercata da quattro anni. Teramo calcio, Massetti che resta il sogno, Emili sempre più lontano. Ancora lo sport con il calciomercato Pineto, Spazio, Abaggi, Giulia Nova, stato presentato con Igni. Vediamo adesso invece la prima pagina dell'edizione di Pescara. In questo caso c'è il messaggio di Valentinetti alla festa di Sant'Andrea appunto che dichiara politici fate un esame di coscienza, questo l'appello di Valentinetti, e aggiunge il potere non conta. Anche qui copertina, diciamo prima pagina dedicata alla visita di Ornella Muti a Sulmona. Pescara da oggi, i lavori, Corso Vittorio, adesso Fratelli d'Italia, contesta il progetto. Concerti, Mannoia e Rea in turnè, le due serate in Abruzzo. Taglio basso, si parla del Pescara calcio, Vergani e Unrebus se parte, pronto l'assalto al centravanti Gabrielloni del Como. A Pescara tassa dei rifiuti, oggi è l'ultimo giorno utile per pagarla. Sanità sempre a Pescara, mancano i pediatri. La ASL che commenta adesso, servono le assunzioni. Prima pagina dell'edizione di Chieti, Lanciano e Vasto. Nomine in comune, siamo a Chieti, scoppia la lite. L'opposizione che commenta spese ulteriori per il nuovo capo staff, Ferrara risponde, non è vero. A Guardia Grele, Branco di Lupi vicino alle case, torna l'allarme. Il concerto a Vasto attesa per Mannoia e Danilo Rea il 4 di agosto. Taglio basso, l'inchiesta dei carabinieri a Chieti, preso il vandalo delle chiese a 25 anni, l'autore delle scritte sataniche è stato praticamente incastrato dai video. I negozianti a Chieti intitoliamo a Marchionne il campetto della villa. Per quanto riguarda invece il calcio, il Chieti che coltiva sogni da grande, la società neroverde dichiara vogliamo la serie C. Chiudiamo infine il quartetto delle prime pagine odierne del Quotidiano Il Centro con l'edizione dell'Aquila Nuovo Terminal e area commerciale. All'Aquila partono i lavori nella zona ovest, previsti negozi e la fermata per gli autobus. La cronaca a Vezzano incendia la casa e tenta di gettarsi dal viadotto è stato salvato. A Ielli al Festival Borgo Universo arrivano i ritmi del celebre batterista e percussionista Tullio De Piscopo. Taglio basso, l'Aquila dopo la perdonanza, Alpini, la città che prepara la festa, i militari tornati dal Kosovo, protagonisti del raduno delle penne nere. Sul Mona Morrone si indaga per l'incendio doloso. Il calcio con l'Aquila, 450 gli abbonamenti sottoscritti, l'Avezzano invece a Chianciano. Parliamo ovviamente di calcio di serie D. Questa è appunto la prima pagina odierna del Quotidiano Il Centro. Adesso facciamo una panoramica per quanto riguarda i principali quotidiani nazionali. Quindi vediamo un attimo le prime pagine in ambito proprio nazionale, partendo dal Corriere della Sera, che in questo caso, vedete qui, scontro sul reddito, rialzi e tensioni su prezzi e tassi, rischi sulla ripresa, vola la benzina, tavolo con governo e garante. Zaia che dichiara troppe distorsioni, è giusto intervenire. C'è poi il golpe guerra, vedete qui Parigi, che dichiara siamo pronti a reagire, perché Niger assalto all'ambasciata di Francia con i cori pro-Russia e pro-Putin. Quindi tensioni all'ambasciata francese in Niger. La premier, Giorgia Meloni, intervista a Fox News, via della seta, l'addio va discusso anche con Pechino. Queste le dichiarazioni della premier Meloni all'intervista, intervistata all'emittente americana Fox News. Ancora altre notizie, attacco con i droni nel centro di Mosca. L'ex europarlamentare Prodi, l'anno terribile di Prodi, morto il fratello Vittorio. Il naufragio, appunto l'inchiesta, guardia costiera, a Cutro, nessun nostro elicottero. Sofia, il killer, era nascosto nell'armadio, atteso che la ragazza tornasse a casa, poi l'ha uccisa, giallo sul cellulare, sparito dell'ex. Lo sport, chiusi mondiali in Giappone, pilato di bronzo, luci e ombre del nuoto azzurro. Vediamo ancora adesso altre prime pagine. In questo caso andiamo a vedere La Repubblica. Stop al sussidio, reddito il giorno dell'Ira. Opposizioni sulle barricate, Conte che dichiara guerra ideologica sulla pelle dei poveri, il Partito Democratico che commenta usano l'algoritmo della cattiveria, i sindaci filo maggioranza che dichiarano ci saranno turbulenze sociali, prefetture in allarme, si teme l'assalto agli uffici dell'Inps. Con le modifiche al PNRR il governo rinuncia a 15 miliardi. Il commento, Partito Democratico e 5 Stelle sintonia senza alleanza. Anche qui la cronaca a quanto sta succedendo in Niger, ultimatum africano contro il golpe. Il golpe in Niger, i manifestanti, assediano l'ambasciata francese. Intervista al presidente merito della consulta, amato per l'emergenza clima, una grande coalizione nell'Unione Europea. Ancora altre notizie. La missione italiana baluardo nel Sahel, si parla sempre appunto di quanto sta accadendo nel Niger. A Niamèi serve appunto un'iniziativa europea. Fuggite poi dalla Libia, trattate da schiave tra i resort toscani. Dopo la grazia a Zaki, i reggeni all'Egitto, adesso riceveteci. Ancora stiamo nell'ambito nazionale. Andiamo a vedere adesso invece la prima pagina della stampa. Poi a breve passeremo sul quotidiano il messaggero. Anche qui andando a vedere la prima pagina nazionale e poi gli argomenti regionali. Sulla stampa di oggi si parla del reddito di cittadinanza utile solo a prendere voti. Intervista al ministro Ciriani. La CGL minaccia scioperi preventivi. Partito Democratico e 5 Stelle stanno con gli evasori contro i fragili. Queste appunto le dichiarazioni. Una mossa che spacca il Paese, appunto i vari commenti. Chi viene colpito dal taglio del contributo. Allarme poi sanità. Buco da 15 miliardi. L'inflazione e contratti scaduti che piegano il sistema salta la riforma della medicina territoriale. Il governo costretto a correre ai ripari pensa a una tassa sull'azzardo. Schillacci chiede aiuto al tesoro. E anche qui quanto sta accadendo appunto in Niger. Salto all'ambasciata al grido di viva Putin. Cacciamo i francesi. I conti sbagliati sull'Africa. Questo appunto il commento e l'analisi di quanto sta accadendo. Andiamo adesso invece sul quotidiano Il Messaggero. Leggendo in primis gli argomenti nazionali. Anche qui si parla appunto del di reddito e anche nello specifico state vedendo Caro Benzina, faro della Guardia di Finanza. In questo caso sono stati segnalati alla finanza i distributori che hanno alzato i prezzi. Oltre i 2 euro al litro. Da domani i cartelli all'impianti sulla quotazione media. Previste anche multe fino a 2.000 euro. Anche qui quanto sta accadendo in Niger. Ambasciata francese assediata. I golpisti inneggiano a Putin. Macron e i paesi africani che dichiarano reagiremo. Dicevamo appunto del reddito. Un assegno per chi prenota la formazione. Basterà essere iscritto ai corsi. 350 euro mensili. L'intervista del premier Giorgia Meloni a Fox News. Poi lo scatto social con la figlia Meloni che dichiara via della seta non ho deciso. Migranti lotta alla mafia degli scafisti. Torna poi l'incubo. Assalto Notav, Molotov e Pietre in Val di Susa. Taglio alto l'annuncio. Parliamo in questo caso di cinema. Terence Hill e il ritorno di Trinità. Presto mi rivedrete in un film western. Parliamo anche di Formula 1. Il regno Verstappen che non ha mai fine. Ottava vittoria consecutiva. Spa si rivede anche Leclerc con il terzo posto. Mondiali di nuoto. Pilato, lacrime di bronzo. Lascia la sua Taranto e il tecnico papà. Altri argomenti. Donazioni e regali. Così l'influencer evadono il fisco. Indagini delle fiamme gialle sui denari versati alle star dei social con pagamenti digitali. Per quanto riguarda invece l'Abruzzo, sfrattato all'Aquila, tenta di buttarsi dal ponte e per fortuna è stato salvato. Entriamo adesso nello specifico con gli argomenti che riguardano la nostra regione. Andremo poi nelle quattro province. In questo caso si parla di restyling nel centro di Pescara. Apre infatti oggi il cantiere di Corso Vittorio Emanuele II, rivoluzione dei percorsi degli autobus. Anche gli automobilisti dovranno adeguarsi alla nuova mobilità lungo l'asse nord-sud. Paura poi a Palmoli. Cornicione crolla in chiesa. Siamo in provincia di Chieti. Sono stati sfiorati i fedeli. Mare. Punti critici nella costa teatina. le analisi di Goletta Verde inquinati due campioni su otto. Rimane ferito nell'incidente. La cronaca lo trovano dopo una notte attorno in parte. Furgone finito nel dirupo. È grave il conducente. Ancora la cronaca. Un argomento che abbiamo letto poco fa. Vuole buttarsi dal ponte. La polizia lo salva. Era stato sfrattato. Voleva appunto gettarsi dal viadotto di Pietrasecca sulla 24. Tristemente noto come stiamo leggendo come ponte dei suicidi. La classifica pagamenti ai fornitori. L'Abruzzo è il più lento. Chieti nella top ten per i ritardi. Pescara invece è un comune. In questo caso virtuoso. Il fenomeno delle morti bianche che sono troppe e la regione Abruzzo diventa un caso nazionale. 13 vittime sul lavoro da inizio anno il teramano è in testa con sei decessi. Vediamo adesso invece la pagina dedicata a Pescara e Provincia. La notte dei serpenti e Sant'Andrea la città che fa il pienone. Migliaia le persone che hanno risposto alla chiamata del doppio grande evento. Ieri la processione in mare. Questa sera i fuochi. Un tripudio di Pescaresità. Lo ricordiamo tra l'altro la notte dei serpenti. l'abbiamo seguita appunto in diretta con la nostra emittente. Sabato scorso Padovano esulta non ricordo così tanta gente in 30 anni. Riporteremo il palo della Cuccagna al Teatro del Mare. Applausi per Grignani e Giussi Ferreri e gli altri ospiti alla serata appunto che è stata organizzata dal maestro il teramano Enrico Melozzi. Si parla anche di mobilità. Corso Vittorio, il cantiere di Grotta, gli autobus diventa strategica la fermata alla stazione centrale per imboccare poi via Bassani-Pavone oppure via Ferrari. La tassa sui rifiuti Tari ultimo giorno odierno appunto per pagare la rata sulla tassa dei rifiuti. Incidente auto contro moto è grave un anziano che è caduto appunto ieri intorno all'ora di pranzo sulla statale a Cepagatti. Vediamo adesso la pagina dedicata all'Aquila e provincia per donanza presentazione a Roma il cartellone sarà svelato il 3 di agosto al Ministero della Cultura alla presenza del direttore di Amicis e del sottosegretario Mazzi il sindaco Biondi che dichiara è una grande occasione per promuovere la nostra festa identitaria a livello nazionale lo scorso anno la visita di Papa Francesco nel 2019 il riconoscimento dell'UNESCO la cronaca tragedia sfiorata una notte nel furgone ribaltato è in gravi condizioni il caso DJ set annullato a Monte Cristo e appunto gli organizzatori dichiarano non è un rave fateci lavorare siamo sempre sul messaggero zona adesso di Avezzano è sul Mona il dramma sfiorato sfrattato incendia la casa e tenta il suicidio sulla 24 un 38enne è stato salvato dagli agenti mentre voleva buttarsi dal viadotto di Pietra Secca l'uomo ha anche picchiato i poliziotti e uno dei medici che lo hanno curato la palazzina nella zona di Via Napoli che è stata subito messa in sicurezza allarme poi incendi morrone l'attenzione resta ancora alta l'evento poi a Sulmona Giostra Cavalleresca vince Porta Manaresca tributo della città al fondatore Di Marco presente anche Ornella Muti che commenta una grande scoperta si respira e entusiasmo applausi al prof che ha reinventato la manifestazione il caso poi ad Avezzano Caritas il sindaco vuole spostare la sede mensa in centro poveri troppo esposti questo il commento del primo cittadino Chieti adesso la pagina appunto di Chieti e Provincia sport e shopping successo della Notte Bianca in centro numeri importanti alla festa del Coni e già si pensa al bis del prossimo anno la madrina Fabrizia Dottavio aperto l'evento con campioni di 28 federazioni il libro poi Marchionne il patriota che in Italia salvò la produzione di auto sindaco poi nel mirino dell'intergruppo il sindaco di Chieti Ferrara polemiche sul nuovo capo dello staff tragedia sfiorata in questo caso a Palmoli crollo in chiesa gran paura per cento fedeli una coppia stava riconsacrando 50 anni di nozze quando c'è stato il cedimento danni anche all'organo siamo adesso a Teramo e provincia addio reddito di cittadinanza gli assistiti saranno dimezzati scendono da mille a 571 le famiglie che riceveranno le nuove tessere l'assessora De Sanctis commenta cancellata l'unica forma di giustizia sociale incidente poi sulla 14 schianto ferite mamma e bambina l'evento a Giulianova carnevale bene la prima 6.000 gli spettatori canti balli e carri allegorici allestiti dai quartieri di nuovo appuntamento il primo agosto con la festa dei bimbi vediamo adesso invece le analisi del mare due i campioni inquinati arriva appunto la conferma da parte di Goletta verde a Silvi furti presi una presa una latitante ladre con attrezzi da scasso passiamo adesso alla pagina sportiva partendo dal calcio di serie c pescara per la difesa l'obiettivo è lucchesi ai biancazzurri manca un difensore centrale il club guarda al giocatore della fiorentina concorrente solo il pisa ma c'è ottimismo per l'atleta su una possibile fumata bianca i baby doc il delfino quest'anno che punta sui tre talentini degli carri ci riprova e le scommesse sono tutte in mediana De Gasso Manu e De Marco si parla anche di basket con il memorial il quinto memorial Fossataro terzo memorial Celommi l'emozione a Roseto di coach Attilio Caia che è stato appunto l'ospite d'onore di questa quinta edizione Caia che salvò Roseto in serie A nella stagione 2005-2006 ha commentato dove si è stati bene si torna sempre volentieri e a Roseto sono stato benissimo per quanto riguarda invece il mercato la società biancazzurra che prende il playguardia Giordano Durante quindi continua la costruzione del roster che sarà allenato da coach Franco Gramenzi parliamo di calcio sempre di serie C Pineto Teraschi ormai vicino continuano le trattative che portano all'esterno destro classe 2003 e per Pasquale Iaccarino più giovane di un anno dopo il ritorno in biancazzurro di Traini il club ha piazzato altri due colpi firme a un contratto biennale di Borsoi e Baggi siamo sempre nella pagina sportiva serie D di calcio Chieti Mancini rinnova la punta Simone Mancini non vedo l'ora di giocare tra due giorni inizia il ritiro a Pescasseroli previsti quattro allenamenti congiunti calcio di serie D l'Aquila la punta Galesio già buone impressioni dopo il test di sabato il mio attaccante è felice dei tanti tifosi presenti appunto molto entusiasmo all'Aquila calcio di eccellenza Teramo Osses si presenta per me una grande occasione l'argentino appunto 26enne che commenta spero di poter dare il mio contributo per portare la squadra a conquistare la promozione in serie D Giulianova ecco Cognini che commenta appunto questo suo ritorno appunto un ritorno per il rilancio altro obiettivo del club poter contare sull'apporto di Lorenzo Giglio centrocampista appunto di 19 anni ancora pagina sportiva e siamo in dirittura d'arrivo di questa nostra rassegna stampa parlando di palla nuoto malara torno per costruire da giovedì scorso in città dopo essersi legato di nuovo al settebello biancazzurro pronto per una nuova avventura l'ex ct dell'Italia commenta ho vissuto il rival adriatico a più riprese c'è un legame affettivo molto forte con questo ambiente con la città di Pescara chiudiamo infine con il volley beach world Pescara la storia che si tinge di giallo bene proprio tutto per quanto riguarda questa nostra rassegna stampa diamo adesso la linea alle previsioni del tempo vi ricordiamo l'appuntamento in diretta tra poco alle ore 9 con una nuova puntata di A Colazione grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie per aver guardato